Ci siamo, inizia il campionato, ti chiedo, visto che è la prima di campionato, è sempre un po' particolare, ti chiedo se l'hai preparata di più sulle caratteristiche della tua squadra oppure se l'hai preparata di più, diciamo, sull'avversario, sul Bologna, visto che è la prima? No, un po' su tutte e due, però sicuramente vado un po' più... Cioè, sui nostri giocatori vado su quelli che hanno lavorato bene dall'inizio del ritiro, che hanno metabolizzato un po' tutto, con il nostro gioco, con le nostre caratteristiche, però anche pensando all'avversario. Visto che c'è stata anche la gara di Coppa Italia, ti chiedo se hai in mente di riproporre una formazione vicina a quella che ha sfidato la Cremonese o se hai in mente dei cambi? Sì, sarà vicina con qualche cambio, però il concetto sarà quello. Per quanto riguarda invece i nuovi, è arrivato anche a centrocampo Amrabat, ti chiedo se è già disponibile, se hai in mente di convocarlo, è lo stesso discorso anche per Bessa, se hai in mente di convocarlo? No, Bessa ho un problema che è stato fuori gli ultimi 7-8 giorni, per questa ragione, in questo momento non è per quello di prima, ma perché sta fuori per la salute. Invece Amrabat e Ajepon saranno convocati, li devo inserire prima possibile, non è facile sia avere tutti, non so, veramente lavorano poco con noi, però dobbiamo farlo tutto a fretta, gli altri due saranno convocati. Ultima cosa te la chiedo su Mijalovic, Bologna avrà anche questa spinta in più per provare a fare risultato, un'altra difficoltà in più? È una situazione molto emotiva per tutti quanti, non so quanto può influire sulla prestazione, c'è l'importante che lui alla fine esce da questa battaglia, tutto il resto conta meno. Giamministra, ben trovato, ti chiedo subito davanti se pensi di dare nuovamente fiducia a Tupta, oppure se dal primo minuto ci sarà Giampaolo Pazzini in campo? Non lo so ancora su Tupta, invece Giampaolo penso che per spiegare bene un po' le cose, la mia idea, perché si sempre fa molta discussione su questa cosa qua, Giampaolo è prima un ragazzo splendido, grandissimo professionista, che sempre si allena bene, il nostro capitano più rappresentativo, quello che guadagna di più, tutto di più, più amato, però secondo me l'ho visto in condizioni non ottimali, non ottimali per giocare a questi livelli, penso che per l'età, per problemi che ha fisici, adesso noi abbiamo fatto un programma speciale, diciamo per lui insieme a Barbero, che ha grande esperienza su queste cose, di metterlo, cioè allenandosi meno tempo, però più intenso, di cercare di metterlo in condizioni per darci una grossa mano, questa è l'idea, in questo momento per me, per il mio staff, non è in condizione per darci una mano come noi vogliamo, poi se il pazzo sta bene come stava prima, io sarei primo un pazzo, non farlo giocare, perché in questo momento non è, secondo me, a livello buono per giocare in Serie A, che non vuol dire, perché veramente si allena benissimo, che non arriverà a questo livello che vogliamo noi. Andiamo invece nel reparto difensivo, io ti chiedo ancora se punterai su Cumbulla come guida della tua difesa. E' una delle opzioni, cioè seria, che ancora vedremo oggi, però è una delle opzioni sicure. E' più facile vedere Emperor, confermato appunto alla sinistra di Cumbulla, o magari rivedere in campo Davidoviz? Anche là un po' di dubbio ce lì ho. Tiro sempre il vice Badu, visto che, insomma, l'abbiamo già parlato, è una grave assenza per voi in mezzo al campo questa. E Liam Anderson è quello che secondo te ad oggi può ricoprire meglio questo ruolo? No, ha lavorato bene, Liam sta crescendo, secondo me, su tanti livelli, come là, si allena sempre al top, molto positivo. Arrivato anche Amrabati in quella posizione che come caratteristiche è più simile a Badu. Secondo me, domani vado su Liam, poi Amrabati ha fatto solo un allenamento, poi vediamo, cioè non è facile neanche inserirsi subito così. Ci descrivi in due parole, mister, il Bologna? Penso che da quando è arrivato Sinis ha tutt'altra cosa, ha dato una mentalità vincente. Da quando è arrivato penso che hanno avuto anche in media punti di Europlig, grandi giocatori, grande spirito, tanti punti forti, qualche punto debole che noi cercheremo di sfruttare. Ciao, mister. Si arriva al riassunto di quello che ci siamo detti a partire da Mezzano. Cosa dirai ai ragazzi in estrema sintesi? Perché adesso si parte davvero con la tua idea di calcio. Prima ho intervistato Adahilton, che è stato tuo compagno e che è stato allenato da Sinisa, e ha detto che quello che vedevo di Juric in campo è uno che trasmetteva quella voglia di aggredire e di arrivare col cuore dove magari non arrivavamo perché gli altri erano più bravi. No, noi dobbiamo arrivare su tutto un po', cioè andare al massimo delle nostre possibilità, sia a livello di gioco tecnico, sia a livello di combattimento, di compattezza, di soffrire insieme, fare tutto per fare il risultato e penso che ogni partita noi dobbiamo affrontare così se vogliamo avere possibilità di fare buoni risultati. All'inizio ti abbiamo chiesto poco, sai, del discorso dei tuoi piaceri musicali, del metal, di altre cose. Questo Verona è lontano da essere no metal, rock, hard rock, questo Verona com'è? Ancora soft e pop, com'è questo Verona adesso? No, è difficile di dire questo momento, ma veramente, perché vedo che è un gruppo che ha fatto ritiro, che già comincia a capire, che ha cresciuto, che ha fatto grossi miglioramenti, non è facile inserire tanti giocatori, cioè ogni settimana inserisci uno, due, tre, e bisogna avere un equilibrio su tutto e poi anche conoscerli come sono veramente questi nuovi, quando li vedi da vivo. In questo momento ancora non posso dire che cosa siamo esattamente. Un'ultima cosa più generale sul campionato, secondo te riparte la caccia alla Juve con l'Inter di Conte che si è avvicinata, secondo te quale sarà la sorpresa e chi ha fatto il colpo di mercato, secondo te? Mi sembra che il campionato, quello che interessa a me, parte sotto. è migliorata tantissimo perché squadre come Genoa, Sassuolo, Udinese, Cagliari, che l'anno scorso lottavano per salvarsi, hanno fatto acquisti allucinanti, cioè con spese veramente, tante spese, no? Mi sembra quasi quasi che si sono tirati un po' fuori. Avanti, diciamo, guardo con interesse, però non mi preoccupo troppo. Grazie. Ciao, Minister. Io volevo chiederti, abbiamo parlato di Pazzini e Tutta per l'attacco. Un'alternativa potrebbe essere invece Tutino? Sì. Fa il suo nuove? Sì. Adesso vedremo cosa succederà, ma Salcedo, se dovesse arrivare, sarà sufficiente per completare l'attacco, secondo te? No. No, Salcedo è un ragazzo che è giovane, talento, e viene a darci una mano, ma non è, quando diciamo dobbiamo prendere un attaccante, non è quello, cioè, per essere chiari, non è Salcedo questo attaccante che noi cerchiamo. Se potessi prenderlo tu, descriverlo tu, il tipo di attaccante che vorresti per completare l'attacco, come lo vorresti? Eh, è un fenomeno. No, cioè, ci sono due o tre giusti. Poi non è facile arrivare, però gente che si cala nella nostra realtà, che non viene con puzza sotto naso, ma che ha fame quella di dimostrare, perché da altra parte ha qualità necessarie di darci qualcosina in più di quello che già abbiamo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà qualcosina in più. D'esperienza, comunque. No, 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 non obbligatorio, no. Ti chiedo invece, mister, nuove regole del calcio, anche qui bisogna stare molto attenti quest'anno, perché, insomma, i cartellini arrivano anche per voi, allenatori. No, questo è un punto dell'ente per me, per cui, cioè, io cercherò di stare calmo, poi il resto in panchina, spero che, normalmente faccio casino sempre io, loro stanno zitti, che stanno zitti anche loro, così... No, perché ne risponderai tu. Sì, che passa tutto liscio, non vorrei essere squalificato, espulso, e entrare in quelle situazioni. Chiudiamo con una battuta. Sarai in panchina domani, perché leggevo che, insomma, hai risqualificato. No, mi sembra stato un errore. Ci è assaltato un errore.